Ok, allora questa sera parliamo, come vi avevo già accennato la volta scorsa, di accessibilità declinata nel caso della comunicazione via web. Lo usiamo come caso dominante della tipologia di comunicazione, ma vedremo che poi molti dei concetti si applicano anche ad altre forme di comunicazione, ad esempio via mobile, oppure con altri, diciamo così, attraverso gli strumenti tecnologici che ci possono essere o si possono voler inserire all'interno, ad esempio, in un percorso di visita di uno strumento di questo genere. Oggi riuscirò probabilmente a correre meno della volta scorsa, quindi riusciamo un pochino ad andare più con calma, ragionare un pochino di più sui concetti. La volta scorsa era molto, diciamo così, una carrellata di nozioni e di conoscenze, ma per darci un inquadramento soprattutto sulla vastità del tema e delle tipologie di soluzioni. Oggi siamo un pochino di più focalizzati su questo tema, quindi spero di riuscire anche a ricavare qualche minuto alla fine per poter poi tirare le fila e con voi e vedere eventuali domande o altro. Allora, parliamo dell'accessibilità dei siti, parliamo del web, noi tutti sappiamo cos'è il web, lo usiamo centinaia di volte al giorno, visitando un sito o l'altro o l'altro. Adesso noi siamo nel 2018, stiamo parlando di accessibilità, ma il concetto di accessibilità era già ben noto fin dall'inizio dei primi siti web, della concezione dell'invenzione del web stesso. Tim Berners-Lee, che è l'inventore del web, ha detto fin dall'inizio, qui siamo nel 97, quindi siamo 20 anni fa, il web era di 5 anni prima, era del 92, i primi siti web, 91 come invenzione tecnica, 92 come primi siti pubblicati, quindi già nei primi anni era già chiaro che la potenza del web è la sua universalità, cioè il fatto di poter arrivare ovunque noi diciamo adesso, ma anche a chiunque, con vari tipi di mezzi. E le tecnologie, i linguaggi che stanno dietro del web, sono proprio pensati in modo da poter garantire l'accessibilità ai contenuti indipendentemente dalle eventuali forme di disabilità. Allora, i linguaggi sono pensati in questo modo, poiché vengono sfruttati dagli sviluppatori di siti, dai designer nel modo giusto, questo è ancora tutto da vedere e questo cercheremo di vedere oggi. Questa è un'altra citazione, sempre di Berners-Lee, dieci anni dopo, che ribadisce il concetto e dice in più, guardate che l'accessibilità non è una cosa per il 5-10% di persone disabili, è per magari il 60% di persone anziane che non hanno una vista più perfetta o non hanno una coordinazione della mano per poter usare il mouse o il treble o il touchpad nel modo giusto e così via. Quindi dice, mi sto avvicinando ai 50 anni e me ne sto accorgendo essenzialmente. Ho detto giusto un articolo settimana scorsa, carino, che parlava dei problemi derivanti dal fatto che i progettisti, i sviluppatori di videogiochi, chi fa i videogame, sono persone giovani, con un'ottima vista e con dei monitor della madonna, scusate il termine, per cui in molti videogiochi le scritte spesso sono troppo piccole, per il giocatore normale, magari persone di mezza età oppure non necessariamente col monitor perfetto o con la vista perfetta. Quindi vediamo anche in senso più ampio, stiamo cercando di analizzare quali sono le facilitazioni alla comunicazione, cioè alla fine creiamo un sito web per comunicare dei contenuti, per facilitare una comunicazione tra chi crea il sito e chi lo visita oppure tra i, a livello social, tra i visitatori del sito. Quello che conta è la comunicazione che avviene e qui dobbiamo trovare delle forme che permettono di facilitare questa comunicazione in tutti i casi. Quell'accessibilità dell'informazione in realtà è una catena molto lunga. Noi la volta scorsa abbiamo parlato del primo anello della catena, cioè riuscire a usare un computer. In presente difficoltà ti metto in grado di poter usare, se non una tastiera, un mouse, qualche surrogato, qualche tecnologia alternativa o assistiva che ti permetta comunque di usare i programmi, i software che stanno nel computer. Una volta che hai aperto il browser devi lottare contro l'interfaccia dei siti. Ci sono siti che sono più o meno facili da navigare, allora voi cominciate a mettere in borsa il mouse oppure mettere uno scotch, un pezzo di cartoncino sopra il trackpad e cominciate a visitare i siti, ad esempio usando solo la tastiera. E ditemi se riuscite. Non riuscite magari per due motivi. Il primo motivo è che non sapete quali sono le tecniche, i trucchetti per farlo, ad esempio l'uso delle frecce del tab, dello spazio per poter andare avanti e indietro, che non avendo avuto bisogno non abbiamo imparato. E in altri casi invece non ci riusciamo proprio perché il sito è fatto male. Non è navigabile in alcuni tipi di modalità. Poi, e quindi oggi ci occupiamo di questo, livelli successivi ma sono più livelli che, diciamo così, attengono all'organizzazione dei contenuti, è il modo, il linguaggio in cui è scritto, quindi una volta che riesco a usare il sito capisco cosa c'è scritto, o è scritto in un linguaggio troppo tecnico, o troppo articolato, o troppo lungo, per cui diventa faticoso comprendere l'informazione e poi in realtà la cosa più importante è l'organizzazione dell'informazione, quindi l'architettura dell'informazione del sito, il fatto che l'utente sappia cosa trovare nelle varie sezioni del sito stesso. Di questo non abbiamo tempo di occuparci. Allora, partiamo come sempre un pochino della normativa, che anche in questo caso esiste, l'accessibilità significa che le persone con disabilità possono usare, fruire, diciamo così in sintesi, del web come tutti gli altri, al pari di tutti gli altri. Qualunque sia il tipo di difficoltà che questa persona può avere. sentite presente che l'accesso a internet si sta diffondendo moltissimo anche in contesti diversi da quello in cui è nato. Cioè internet è nato così, voi siete seduti con un computer davanti, piena attenzione al computer, mani libere, sguardo disponibile per vedere cosa c'è scritto. pensate allo stesso tipo di informazione quando la volete ottenere, magari mentre siete alla guida. Lasciamo perdere chi guarda le mappe, come quella che avevo davanti stamattina, sul cellulare mentre sta guidando, e mi infila la strada in contromano, ma anche, e questo sarebbe vietato quindi non ne parliamo, ma le nuove macchine moderne che hanno quei grandi touch screen sui quali, non ancora per fortuna, ma presto si potrà anche navigare a fruire dei contenuti web. Ecco, quelli, se io non voglio andarmi ad ammazzare, devo riuscire a percepire il contenuto, capire cosa c'è, cosa vuol dire, senza distrarmi dalla guida, senza staccare le mani dalla volante, o almeno non tutte e due, senza staccare gli occhi dalla strada, o almeno non per più di uno, due decimi di secondo. E allora in quel momento non posso usare tutti i sensi, non posso usare tutte, diciamo così, le capacità del mio corpo, perché sono in un contesto particolare. Quindi le normative su accessibilità pensano proprio a questo. E accessibilità e usabilità sono due temi molto, molto correlati. È difficile avere un sito che sia tecnicamente accessibile, ma non usabile, usabile nel senso di facilità d'uso, di basso sforzo, di interazione, di facile comprensibilità e così via. E quindi in qualche modo spesso, oggi appunto parleremo più tecnicamente di accessibilità, ma nella progettazione bisogna tenere conto di entrambi gli aspetti contemporaneamente. Dove, chiaramente nel caso dell'usabilità, rientrano i principi del design for all, essenzialmente. Cioè, di rendere fruibile in qualunque artefatto, in questo caso stiamo parlando di un sito web, usando questi principi che in qualche modo permettono, sono principi di progettazione questi, non sono regole, non sono ancora norme, però ci dicono, l'avete visto, questi sono i principi del design for all. Ci aiutano in qualche modo a interrogarci su ciò che stiamo progettando e chiederci se possiamo renderlo più semplice, se possiamo renderlo più flessibile, se possiamo tollerare una maggiore imprecisione nell'uso, quindi margini di errore, eccetera, eccetera. Sono tutte sfide progettuali che ci diamo. Ma un'altra motivazione, se vogliamo, forte all'accessibilità web è il fatto che se tu, ma questo è un principio generale, faciti qualche cosa o credi alle facilitazioni per una certa categoria di utenti disagiati, in realtà quella facilitazione ti torna gratis, ti dà un vantaggio secondario, gratuito, su altre popolazioni di utenti, mainstream, cioè più numerose, principali, che a questo punto potranno anche giustificare numericamente, parliamo anche dal punto di vista economico, il fatto di aver investito nel rendere più accessibile un determinato sito. C'è stato intorno agli anni 2000 un ribaltamento nel modo di fare i siti web. Fino a quegli anni, forse voi non li ricordate ancora, cioè non potete ricordarveli, c'erano dei siti estremamente ingessati, cioè c'era la larghezza fissa, 800 pixel, 1024 pixel e il sito era pensato per essere navigato a quella dimensione. Adesso invece i siti sono tutti molto dinamici, adattativi, allarghi, stringi, modifichi la finestra e il contenuto del sito si sposta e si adatta. Perché? Chiaramente in questo secondo caso è molto meglio, perché immaginiamo di avere problemi alla vista, allora ingrandisco il testo e ingrandendo il testo ho meno, diciamo così, pixel disponibili e quindi il sito deve in qualche modo riorganizzare il contenuto e non tagliarlo a destra, per cui ne vedo solamente il 25% sinistro e il 75% me lo perdo. Perché c'è stata questa rivoluzione, diciamo così, anche visiva? Uno perché le tecnologie l'hanno permesso di fare queste cose, prima invece non si poteva, si facevano le autotabelle e adesso si fanno in modo diverso, ma a parte l'abilitatore tecnologico, di sicuro non è stato per problemi di accessibilità. Rifacciamo i siti così anche una persona ipovedente riesce a navigare tutti i contenuti senza dover scrollare continuamente a sinistra a destra. No, il motivo sono stato la nascita dei dispositivi mobili. Su uno smartphone lo schermo è piccolo, ma gli smartphone tra l'altro sono tutti diversi, ognuno è un po' più piccolo, uno è un po' più grande e quindi per poter rendere il sito navigabile dalla nuova internet mobile che stava nascendo in quegli anni, si sono dovuti inventare delle soluzioni che rendessero i contenuti autoadattabili. E non potevi fare 27 versioni del sito, una per PC, una per mobile, una per chi ha l'iPhone, con l'altra per chi ha il Samsung che è un pochino più piccolo, un pochino più grande, con risoluzioni diverse. Quindi il fatto di essere flessibili rispetto al tipo di dispositivo di accesso, ad esempio, ha portato alle stesse soluzioni che permettono di essere flessibili anche rispetto a eventuali problemi di vista, quindi problemi sensoriali. Quindi spesso le soluzioni sono convergenti. Qui ci sono alcuni esempi, la cosa classica sono i sottotitoli, le alternative testuali, quindi se c'è un video con... quante volte avete guardato dei video e eravate magari qua in classe seguendo le lezioni e mannaggia non ci ha messo i sottotitoli e quindi non so cosa dice, non posso mettere l'audio. Invece, infatti, molto spesso adesso i video che si condividono sulle reti social, pur avendo l'audio, hanno anche i sottotitoli, perché si sa che molte persone le guardano senza poter accendere l'audio, perché il contesto non lo permette. Questa cosa e il non udente sono la stessa cosa. È una soluzione tecnica che rende... soddisfa entrambe le categorie di utenti. Tra l'altro, se ci pensiamo un attimo, tra tutti gli utenti di internet o del web, ce n'è uno che è più disabile di tutti. C'è un utente che non può vedere le immagini, non può vedere né sentire i filmati, non può vedere l'impaginazione delle pagine, non può percepirla, non può capirla, non può vedere le differenze di colore, quindi qualunque informazione che sia convogliata dal solo colore per lui è indistinguibile, e ha molte difficoltà a interagire con delle pagine che variano, i cui contenuti cambiano continuamente. Allora, questo utente qua, tu dici, è molto sfigato, però in realtà è un utente che visita milioni di pagine web al giorno. Voi dite, chi è? Sono i motori di ricerca. I motori di ricerca, su cui si basa tutto oggi, cioè i siti vengono trovati attraverso un motoro di ricerca, non più attraverso l'indirizzo, e se il vostro contenuto deve essere trovabile, deve essere trovabile nel motoro di ricerca, visitano il sito come, cioè percepiscono dal sito, acquisiscono dal sito i contenuti, come una persona che abbia tutte queste limitazioni, tutte contemporaneamente, perché di fatto vanno a esaminare solamente il testo e i link. Adesso qualche motore comincia a lavorare anche un po' sull'immagine, anche un po' sul video, però sono tutti, loro li chiamano in gergo algoritmo, segnali, cioè indicazioni che la tua ricerca deve essere messa un po' più in alto, un po' più bassa, di priorità molto inferiore rispetto al testo, i link, eccetera. quindi un sito accessibile è anche un sito che si comporta meglio nei confronti dei motori di ricerca. Allora, queste sono le motivazioni, se vogliamo, diciamo così, economico, commerciale, o di opportunità, sul fatto di dover pensare all'accessibilità. Poi ci sono anche delle motivazioni legali, delle norme internazionali, adesso qua non voglio entrare, qui vi metto il link, per cui se qualcuno ha impallinato di queste cose, se le può andare a vedere, però ci sono delle norme a livello mondiale, Nazioni Unite per capirci, ci sono delle norme a livello europeo, qui stiamo parlando di cose che esistono da dieci anni, tranquillamente, quindi non è l'ultima cosa uscita, e ci sono delle norme a livello statunitense. Poi parleremo anche nello specifico di che cosa dicono le norme italiane. Essenzialmente tutte queste norme dicono che tutti i siti web, e in particolare quelli pubblici o di pubblica utilità, o che loro hanno pubblici servizi, devono essere accessibili. Adesso ci copriamo di capire cosa vuol dire questa parola accessibile. Ovviamente le norme poi nel dettaglio dicono cose diverse, ma dietro questo è famoso il caso del sito web delle Olimpiadi di Sydney, Olimpiadi estive di Sydney, se non ricordo più in che anno fossero, che non erano state pensate in questo modo, un utente non vedente ha fatto causa all'organizzatore, guadagnando una ricompensa di diverse centinaia di migliaia di dollari, perché lui non poteva visitare quel sito perché non era accessibile, non è stato progettato per i ciechi, o non per i ciechi, in modo da essere accessibili anche ai ciechi. Adesso l'Italia non è la patria dei risarcimento milionari, però le nazioni anglosassoni queste cose funzionano in questo modo. In Italia c'è una legge del 2004, che è una legge molto forte, tutto sommato, che si applica solamente ai siti pubblici, ai siti web pubblici, quindi tutto ciò che è della pubblica amministrazione o pagato con i soldi della pubblica amministrazione, in realtà tanto, nel senso che se andiamo ad escludere solamente gli enti privati, le aziende essenzialmente, ma anche un progetto, se voi siete un'azienda che produce siti web o che fa contenuti e partecipate a un bando pubblico, allora il sito deve essere accessibile. Dal 2004, sono passati 14 anni, esiste questo obbligo. Questo obbligo tra l'altro che prevede la nullità del contratto in caso di inadempienza. Questo vuol dire che se voi avete, se siete un'azienda, fa siti, vi cominciano a un sito da parte di un ente pubblico o di un ente che sta lavorando con soldi di provenienza pubblica, voi rendete questo sito non accessibile, cioè non applicate correttamente le normative su accessibilità, possono prendervi il sito e non pagarvi. Contatto nullo vuol dire che nulla ti è dovuto di ciò che hai fatto, per ciò che hai fatto. E se invece l'ente ti ha pagato, il dirigente che ha firmato quella delibera può essere chiamato a restituire i soldi. Questo è ciò che prevede la legge che io sappia in 14 anni non è mai stata applicata questa clausola, purtroppo. Ok, allora questa parte qua la lascio nelle slide perché era già, ce l'avevo già, ma questa la saltiamo velocemente perché noi ci agganciamo a ciò che abbiamo già visto la volta scorsa. Vi lascio solamente uno spunto. La domanda è, sì ma i disabili, come usano un PC, come fanno a navigare? Noi la volta scorsa abbiamo visto i vari tipologi di ausili, però c'è un articolo carino, molto veloce da leggere e anche molto discorsivo, che si intitola How people with disabilities use the web. Quindi se voi cercate questo articolo qua, che è linkato qua, essenzialmente, in questo indirizzo, vi racconta un po' di casi pratici, un po' di personas, di utenti rappresentativi, delle varie modalità di utilizzo del web. Non ci entriamo nel dettaglio adesso. Ma leggendo quello, oppure ricordandoci un po' ciò di cui vi abbiamo parlato prima di Pasqua, ho provato a sintetizzare alcune conclusioni, da tenere la mente nella parte poi di progettazione. Uno è che gli utenti spesso usano più di un ausilio. L'abbiamo visto la volta scorsa. Magari ti serve un mouse adattato e poi l'emulatore di mouse per poter fare le combinazioni di tasti più complesse. Quindi magari un ausilio di tipo hardware combinato, abbinato ad un ausilio di tipo software. Oppure ti serve appunto il riconoscitore vocale combinato allo screen reader. Cioè, il sintetizzatore vocale combinato allo screen reader. Oppure lo screen reader con la barra braille. Quindi, se già le tipologie di ausilio sono molte, le combinazioni di essi diventano esplosive in termini di numerosità. Ma esiste, quindi, se devi gestire tutti i casi, non ti passa più, non riesci mai a fare l'elenco di tutte le possibilità di tutti i possibili utenti disabili e dei loro ausili e dei loro comportamenti. La seconda cosa però, se vogliamo il contrario, che possono esistere persone, anche con caratteristiche, patologie e disabilità diverse, che poi in realtà usino le stesse soluzioni. Perché magari si trovano, diciamo così, nella stessa soluzione tecnica, si trovano bene, si trovano, diciamo così, adattate alla loro esigenza, una determinata soluzione. Quindi questo, in qualche modo, ci dice che la conoscenza della disabilità dell'utente non importa. Non è un'informazione importante, non è un'informazione utile. Non devo ragionare per disabilità, non devo per ragionare, ma allora se l'utente è cieco, se l'utente è sordo, se l'utente non può muovere una mano, se non ne può muovere due, se non può muovere sette dita su dieci, non posso ragionare così. Uno, perché i casi sono troppi e due, perché le soluzioni che trovo non è detto che siano, non possono essere messe in relazione uno-uno con le tipologie di disabilità. Dovrò lavorare in modo più generale, dovrò lavorare in modo più, dare gradi di flessibilità più ampia senza andare a elencare tutte le possibilità che io magari non conosco neppure. Quindi è possibile ragionare per categorie, e tra l'altro le esigenze possono essere anche molto diverse. Ad esempio, una persona cieca, una persona che ha una capacità motoria, quindi usare la tastiera si trova benissimo, non può vedere, può sentire. Una persona con tetraplegia magari non può usare le mani, ma ci vede benissimo. Quindi può usare gli occhi per interagire anziché le mani, le soluzioni sembrano quelle che siano incompatibili, cioè ottimizzo per l'uno o ottimizzo per l'altro. Invece non è vero. La chiave per l'accessibilità, c'è scritto qua sotto, è la flessibilità. Cioè io devo predisporre il sito in modo che poi ciascun utente riesca a fruire nel contenuto nel modo che preferisce. Se c'è corsa lo sentirà in audio, ma poi potrà navigarlo con le frecce, con i tasti, eccetera, con le facilitazioni che gli danno lo screen reader. Se invece è una persona tetraplegica, potrà tranquillamente leggere il contenuto e però per spostarsi e per muoversi avrà bisogno di ausili di movimento il più possibile semplificati che magari non prevedano dover puntare il mouse esattamente in quel pixel lì e tenerlo premuto e spostarlo in giù di un centimetro. Perché è un gesto che magari non saprà mai fare. Allora, per far questo, sono due flash. Quanti di voi sanno come funziona un sito web? HTML, cose di questo genere. I più coraggioli hanno usato la manina, altri hanno fatto un cenno di abbastanza sì. Allora, noi abbiamo gli utenti, questo qua è il mio utente, che usa un browser per navigare un sito. Ok? Interagisce col browser attraverso schermo e tastiera, qui dentro c'è il browser. Qui in mezzo c'è internet e dal lato destro di questa nuvoletta internet c'è tutto il sito, c'è la parte server del sito che genera i contenuti. Per fortuna oggi non ci interessa, è la parte più complicata, è la parte dove i programmatori e gli sviluppatori si devono mettere a scrivere il codice, creare il database da cui vengono generati i siti, eccetera, eccetera. Volevo solo concentrarmi sulla parte sinistra, cioè il browser, cioè ciò che l'utente vede. Allora, nel caso più semplice, 1995, 1995, quegli anni lì, era tutto facile, brutto, ma facile, nel senso che il browser capiva l'HTML e basta. E quindi la pagina web veniva scritta in HTML, da chi, dal lato server, da chi creava il sito, ma abbiamo detto che la parte destra non ci interessa più di tanto, e il browser non faceva altro che visualizzarlo. Quindi tutto il contenuto e il layout del sito derivavano appunto dal codice HTML che era stato creato. Poi c'è stato un avanzamento con la, quindi qui siamo 95-2000, quegli anni lì, un avanzamento della tecnologia anche lato browser, dove le pagine web sono diventate dinamiche, quindi all'interno di una pagina io posso interagire con gli elementi della pagina, il menu a comparsa, scomparsa, le immagini, il carousel, le cose di questo genere. E questo ha reso, è stato reso possibile dal fatto che dentro il browser c'è l'interprete di un linguaggio di programmazione che si chiama JavaScript. Quindi ciò che fa il vostro browser quando visitate una pagina è caricare il codice HTML, impaginarlo e poi cominciare a eseguire il codice JavaScript che era inserito dentro quella pagina. Cosa faccia questo codice? Lo sa solo lui e tipicamente gestirà delle interazioni, diciamo avanzate, con l'utente che l'HTML da solo non riesce a fare. Allora, già chi scrive questo JavaScript dovrà in qualche modo, abbiamo già due persone, tre, chi crea il browser, supponiamo che faccia la cosa giusta e renda il tutto il più accessibile possibile, chi crea l'HTML, chi crea il sito, e chi scrive questo codice JavaScript che dà il comportamento dinamico all'HTML. Tutti e tre ovviamente dovranno fare la cosa giusta in modo che il sito alla fine risulti accessibile. Poi la cosa sia ancora complicata, più di recente, questa sigla AJAX a voi non dice nulla, tranne forse il detersivo, ma non indica quello, indica una tecnologia attraverso il quale il browser e il server del sito si possono parlare in continuazione. Io ve la faccio così molto a storiello del cappuccetto rosso perché non voglio entrare nel tecnico. Prima, secondo il modello base del web, il sito erga una pagina e tu interagisci col tuo browser all'interno di quella pagina e basta. Se poi clicco su un link mi arriva una pagina diversa e su questa pagina diversa ricomincia la storia, ricomincia l'interazione. Sono pagine distinte, si navigava pagina dopo pagina. Adesso no, si apre una pagina e il contenuto di questa pagina cambia in continuazione. Pensate a un Facebook o un Twitter o una cosa di questo genere in cui contenuti, il browser, o meglio il JavaScript che è contenuto dentro la pagina, va a interrogare costantemente il server e dice c'è arrivato qualcosa di nuovo, ci sono delle notizie nuove o un Gmail o un'applicazione di questo genere. quindi il contenuto della pagina e quindi anche ciò che viene visto dall'utente è in continua, può potenzialmente essere in continua variazione. Anche, diciamo così, pescando, attingendo informazioni che non c'erano non appena ho aperto la pagina ma sono arrivate dopo. Voi dite bello, sì, sì, però immaginate un non vedente che ha un programma tipo screen reader che gli legge il contenuto della pagina. Se quando lui è arrivato a metà il contenuto della pagina cambia perché il sito ha aggiunto una news o ti è arrivata una mail nuova cosa succede a quel punto? O ti perdi un pezzo oppure più probabilmente lo screen reader se ne accorge e ricomincia a leggerci la pagina dall'inizio entrando in un loop che non ti permette praticamente mai di arrivare fino in fondo. Quindi sono accortezze di cui in qualche modo bisognerà tenere conto. Allora le norme sull'accessibilità che cosa ci dicono? Ci dicono guardate che voi quando create i siti dovete fare in modo che nel soprattutto nell'HTML ma anche un po' nel JavaScript e nella parte interattiva di rispettare certe regole certi criteri per far sì che poi chi usa non un browser normale con schermo e mouse o tastiera ma chi usa un browser con degli ausili riesca comunque a navigare quella pagina. E quindi sono norme che parlano dell'HTML essenzialmente della parte client della parte browser. Vabbè qui servo Allora chi ci insegna a creare questi siti accessibili sono un gruppo di lavoro del V3C è l'organismo che emana gli standard relativi a tutto il mondo del web che ha proprio interno un gruppo di lavoro che si chiama WAI Web Accessibility Initiative attivo da sempre dal 97 da quella frase che aveva detto Bernard Klein avanti essenzialmente che garantisce definisce delle linee guida e garantisce che le implementazioni di queste linee guida tecnicamente siano corrette e in particolare le linee guida di cui ci occupiamo sono linee guida che si chiamano WCAG Web Content Accessibility Guidelines cioè linee guida sull'accessibilità del contenuto web parleremo ovviamente della versione più recente che sono la versione 2.0 adesso stanno lavorando sulla 2.1 dovrebbe uscire entro la fine dell'anno probabilmente cosa dicono? vabbè saltiamo la linee guida 1.0 che ormai sono state diciamo così superate dalla versione 2 cosa ci dicono queste linee guida? ci danno dei principi generali che sono 4 dicono quando tu progetti un sito ma io adesso mi ricordo la frase che ho detto all'inizio non è solo un sito quello di cui stiamo parlando qualunque strumento di comunicazione che sia basato in qualche modo su dei contenuti informatici quindi pensiamo al sito pensiamo all'applicazione mobile pensiamo al totem messo in uno spazio dispositivo cose di questo genere pensiamo all'installazione interattiva pinco pallino si applicano tutte queste linee guida in ogni caso si dice devi seguire 4 principi generali questi 4 principi sono declinati poi in 12 linee guida più di dettaglio e ciascuna linea guida poi ha una serie di punti di controllo che c'è all'interno di questa linea guida per rispettarla devi rispettare una serie di diciamo così di requisiti più specifici più fini adesso andremo a navigarne alcuni e la normativa definisce dei diversi livelli di successo A, A o AAA a seconda di quali e quanti punti di controllo riesci a soddisfare l'accessibilità tipo A di fatto ti viene ti puoi freggiare il bollino accessibile secondo la gucia G2 livello A se soddisfi tutte le linee guida di priorità alta il must WA se soddisfi tutte le linee guida di priorità alta e alcune di priorità media il should e la AAA che praticamente non c'è da nessuno se soddisfi anche tutte le linee guida di priorità alta media e alcune di priorità bassa il may chi ha creato quelle linee guida aveva in mente due tipi di persone gli sviluppatori di strumenti e gli utenti sviluppatori di siti sviluppatori di strumenti per chi crea i siti e dall'altra sono gli utenti gli utenti che usano tecnologie ausili e poi browser normali gli sviluppatori cosa hanno? gli strumenti per creare siti e gli strumenti per valutare e questi ci giocheremo l'effettiva accessibilità dei loro siti e queste linee guida c'è una famiglia intera di linee guida ad esempio UAG sono per chi sviluppa cioè per la Google che sviluppa Chrome per la Mozilla che sviluppa Firefox seguono queste linee guida nello sviluppo dei loro browser UA sta per user agent cioè il programma in mano all'utente a noi interessa più il WCAG web content noi pensiamo alla creazione dei contenuti queste linee guida sono organizzate in quattro set di documenti quattro set di documenti di cui c'è un indice rapido da cui si può arrivare alla definizione completa delle regole delle norme di tipo al livello sotto ci sono delle norme di riferimento quindi ti dice qua a destra questo understanding il perché c'è una certa regola e a sinistra le techniques ti dicono come fare a implementarla cioè come fare proprio praticamente in HTML quali comandi devi dare per soddisfare quella determinata regola tutte queste cose sono collegate tra di loro attraverso dei link i documenti adesso conviene vederli direttamente online perché si capisce anche molto meglio come funziona online vuol dire andare sul sito v3 punto org barra why web accessibility initiative se no c'era anche qua e se all'interno di questo sito delle web accessibility trovate le guidelines che sono guidelines eccolo qua web content e poi c'è vcag 2.0 che è un documento di questo genere adesso non leggiamo ancora cosa c'è scritto ma solo per capire la struttura del documento ci sono dei principi e all'interno dei principi ci sono linee guida linee guida 1.1 linee guida 1.2 linee guida 1.3 all'interno di ciascuna linea guida ci sono vari punti vari requisiti in certo senso per ciascuno di questi a fianco abbiamo understanding quindi se andiamo sulla parte understanding della linea guida 1.1 ci spiega perché è importante lo scopo di questa linea guida è garantire questo e quest'altro quindi ci spiega ci dà il contesto per cui è nata e poi c'è un how to meet a livello di dettaglio del tipo questo 1.1.1 come faccio praticamente a soddisfare questa linea guida e qui ci dà proprio la descrizione di come fare e le tecniche vedete che man mano che andiamo avanti entriamo sempre più nel dettaglio a un certo punto dice se stai lavorando in flash se stai lavorando in html se stai lavorando in pdf usa queste tecniche ad esempio entri qua e vai poi su una pagina che ti dà il dettaglio di questa quindi è una quantità una mole di informazione enorme però diciamo così si può approcciare poco per volta ma a noi interessa soprattutto questa prima parte poi le tecniche specifiche servono poi a chi ci deve lavorare sul serio essenzialmente creando contenuti ma allora vediamo quali sono i principi quindi sono tutti i principi generali su cui poi però abbiamo le soluzioni tecniche per poterli implementare non sono principi così vaghi vogliamoci bene cerchiamo di fare le cose carine no sono principi dietro i quali ci sono delle soluzioni provate funzionanti semplicemente da applicare essere coscienti nella progettazione e poi applicarle nella realizzazione allora i quattro principi guida dell'accessibilità web sono questi quattro il contenuto deve essere percepibile o percettibile vuol dire che informazioni leggo qua i componenti di interfaccia devono essere presentati ad utenti in modo che possono essere percepiti percepire è un verbo sovrasensoriale cioè vuol dire letti vuol dire ascoltati sentiti vuol dire visti vuol dire toccati quale che sia il metodo sensoriale che io decido di usare quel contenuto deve essere disponibile in quel metodo questa è la linea di guida generale poi ci sono i dettagli quindi mi chiedo sempre l'informazione che vogliamo dare la comunicazione che vogliamo fare può arrivare sotto forma diversa essere percepita sotto forme diverse oppure ha dimenticato alcuni canali in alcune forme non è percepibile qui potenzione non è on off la percepibilità cioè prima ho detto può essere vista sentita eccetera ma anche nel vista può essere vista bene o meno bene può essere vista scritta in piccolo in vista con difficoltà o scritta in grande vista bene da tutti scritta in grigio chiaro su bianco scuro per cui non legge nessuno oppure scritta con un buon contrasto quindi noi dobbiamo chiederci questo nei vari canali che poi alla fine sensoriali che poi alla fine sono quello visivo uditivo e tattile se tutta l'informazione è percettibile in modo facile e completo questo è il primo principio secondo principio operable utilizzabile ho tradotto in italiano anche se non mi piace tantissimo questa soluzione cioè se questa non è semplicemente una cosa da guardare o da percepire diciamo in generale ma è una cosa con cui interagire allora i controlli per poterla interagire cioè i bottoni da schiacciare le icone le caselle in cui scrivere le scrollbar da spostare cioè tutti gli elementi che permettono di usare effettivamente quel contenuto sono utilizzabili da chi usa il mouse da chi usa la tastiera da chi non li usa da chi usa invece un riconoscitore vocale per cui dai comandi a voce da chi usa un mouse adattato altrimenti uno arriva lì davanti e dice che bello ma poi non lo può usare perché no? un po' come per andare sul fisico sugli esempi semplici l'altezza dei pulsanti dell'ascensore motivo per cui nell'ascensore moderno i pulsanti dei piani sono messi in orizzontale anche se anti-intuitivo perché se li mettessi in verticale i pulsanti dei piani più alti sarebbero un'altezza troppo elevata per chi è seduto in sedia a rotella ad esempio o per chi è effetto di analismo tanto per fare un altro esempio quindi chiediamoci anche questo cioè per poter andare su quella pagina per poter lanciare il video per poter fare una richiesta per poter inserire i propri dati ci sono varie modalità oppure l'utente è obbligato a usare quella tastiera quel mouse in quel modo in quel punto ci sono alternative comprensibile la comprensibilità in realtà è la meno tecnica di questi principi generali perché ha a che vedere col contenuto cioè il contenuto l'ho scritto l'ho creato in modo che sia facile da comprendere cosa vuol dire facile da comprendere vuol dire che non sia eccessivamente complicato inutilmente posso dire complicato rispetto al target dei destinatari è chiaro che se sto facendo un trattato di filosofia devo scrivere cose complicate ma noi dobbiamo pensare a persone magari che hanno già avuto delle difficoltà nella percezione oggi si fa tanto parlare delle dislessie ad esempio come difficoltà nell'apprendimento quindi sono persone che hanno comunque una difficoltà tecnica nel leggere quindi devono dedicare una percentuale di attenzione più alta degli altri alla lettura stessa e quindi è più difficile per loro percepire delle frasi che siano articolate in modo complesso frasi lunghe frasi complesse non perché non le capiscono ma perché se le dicessi a parole queste frasi le capirebbero benissimo ma poiché nella lettura è ostacolata è un po' come se voi stiate cercando di leggere un testo complicato in treno balla tutto e sì sì alla fine riuscite ad arrivare alla fine della frase ma cosa avete detto sopra la struttura della frase ve la siete persa perché vi siete dovuti concentrare su riuscire a non perdere il segno persone non udenti le persone non udenti che ad esempio usano la lingua dei segni come prima lingua imparano l'italiano alcuni parlato alcuni solo scritto come seconda lingua perché la loro prima lingua è la lingua dei segni che ha una grammatica diversa da quella italiana quindi comunque il testo non può essere troppo complicato se non vogliamo introdurre un ostacolo e poi ma in realtà la cosa più semplice è uno straniero uno straniero che viene a visitare o vuole informarsi sui contenuti del museo che stiamo curando deve avere dei contenuti vabbè se riesco scritti nella propria lingua ma almeno scritti in modo semplice comunque non posso scriverlo in tutte le lingue del mondo lo scriverò in alcune più importanti ma comunque sarà quel testo lì sarà comunque la seconda lingua per la maggior parte degli utenti quindi comprensibile significa la struttura della frase semplice significa anche non fare riferimento a magari concetti o contesti culturali che non sono scontati per tutti modi di dire non è facile però è un'operazione di cura del contenuto e poi l'ultima punto è la robustezza cioè il robusto è una cosa che si fa maltrattare che può essere preso girato storto convertito allungato accorciato stampato ripreso eccetera ma alla fine è ancora sempre leggibile è ancora sempre percettibile e utilizzabile sia robusto anche il concetto di robustezza in informatica è anche un concetto nel tempo cioè io oggi ho certi ausini certi browser certi contenuti i nuovi browser i nuovi smartphone che usciranno l'anno prossimo saranno diversi saranno cose nuove il mio contenuto che ho progettato oggi funzionerà ancora funzionerà ancora bene con le tecnologie di domani o devo pensare di rifarlo ogni anno la risposta è no perché economicamente non potrei mai sostenerlo quindi devo pensare non specificatamente oggi c'è quella versione di quel browser che funziona in quel modo ma progettare anche per il futuro per ciò che arriva per le tecnologie che ci potranno essere e se ci potranno essere potranno essere utili il mio sito è già pronto anche se l'ho progettato quando non le conoscevo ancora queste cose quando non erano ancora nate non sono dichiarazioni di intenti come vi dicevo perché poi abbiamo visto che poi le specifiche tecniche per farlo ci sono ok questi quattro principi sono declinati in linea guida come abbiamo visto allora proviamo a leggere insieme quindi ci ragioniamo la 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 tipologia di contenuti. A patto che ciascun contenuto che produciamo sia anche disponibile in forma testuale. Quindi io ci metto una bella immagine? Bene. Non c'è scritto il sito deve essere puramente testuale, ma c'è scritto che ogni volta che io ho un contenuto qualunque non di testo, questo deve avere un'alternativa testuale. Una bella immagine posso avere una didascalia sotto che la spiega. Oppure ci sono i metodi in HTML per fornire la didascalia senza neppure mostrarla. Nell'immagine, nel tag img image in HTML c'è un attributo che si chiama alt, che è obbligatorio anche se nessuno lo mette, che significa testo alternativo. È un testo che per gli utenti normalmente non viene mostrato da nessuna parte, ma nel caso in cui uno usa uno screen reader o stampi una pagina, vuole stampare senza immagini o qualcos'altro, compare quel testo lì. Oppure a volte compare il testo mentre l'immagine sta caricandosi, la connessione è lenta. Se quel testo c'è viene usato in certi modi diversi. Però dovessi ci qualcuno deve averlo scritto. Quindi immaginatevi, se io dovessi descrivere che cos'è questa immagine, cosa scriverei? È un'operazione da 10 secondi. se la fai rende quell'immagine automaticamente fruibile in tutti gli altri modi. È un po' più complicato col video. Se ho un video dovrò avere da qualche parte, non dico una trascrizione completa, ma almeno un sommario di che cosa rappresenta il video. Se ho un disegno tecnico dovrò avere una spiegazione, una didascalia che racconta cosa c'è in quel disegno. Se ho un audio, quell'audio porta contenuto alla registrazione dell'intervista con l'assessore che ho in podcast sul sito. La trascrizione di quell'intervista potrà arrivare da qualche parte. Sono contenuti che di solito abbiamo o sono facilmente ottenibili. L'importante è non buttarli via, perché tanto noi nel sito facciamo partire l'audio. Sì, noi sì, ma qualcun altro no. Ricordatevi che ci sono i disabili, c'è anche il motore di ricerca, che possono indicizzare questo testo qui e rendere anche più facile il riconoscimento dei contenuti. Quindi questa è la più importante. Poi ovviamente all'interno si declina in altre sottolinee, ma non ci entriamo con il libro di dettaglio. E come dicevo, nella maggior parte dei casi è molto semplice, nell'HTML basta mettere un riferimento a un breve testo che spieghi quel contenuto. Tipi di media temporizzati. Cos'è il tipo di media temporizzato? Ad esempio un video o un'animazione. Allora, è possibile fornire lo stesso contenuto anche in un altro modo che non sia, come dice lui, temporizzato? Perché magari ho bisogno di più tempo per leggere un certo contenuto, oppure non lo posso percepire, oppure le animazioni mi danno fastidio a livello cognitivo. E qui non stiamo dicendo una trascrizione frame per frame, parola per parola. Ci stiamo chiedendo qual è il contenuto che viene veicolato da quel video, da quell'animazione. O mi dite no, non c'è nessun contenuto, è puramente estetico. Allora io ho dei dubbi sul fatto che serve davvero. Oppure un contenuto c'è. Allora, quel contenuto come lo possiamo raccontare in un modo diverso? In un luogo diverso? Ridondanza comunicativa, usare canali diversi per convogliare gli stessi concetti. Adattabile, creare contenuti che possono essere rappresentati in modalità differenti, ad esempio con layout più semplici, senza perdere informazioni o struttura. Abbiamo fatto l'esempio prima, deve adattarsi allo schermo di un smartphone che è più piccolo, ma deve anche adattarsi a una persona che magari ha una vista bassa e quindi deve ingrandire di più. Oppure una persona che ha dei deficit di attenzione e quindi non vuole vedere troppe cose contemporaneamente, sennò va in confusione. Quindi il sistema si può adattare facilmente? E distinguibile, allora qui siamo sempre nella percettibilità, allora distinguibile significa che dobbiamo riuscire a staccare bene il contenuto dal contesto. Cioè nel caso della vista ad esempio il contrasto, il contrasto tra il testo e lo sfondo, tra l'immagine e ciò che ci sta intorno. Nel caso dell'audio la differenza di volume che ci può essere tra la voce di chi parla, nel caso che ci sia un parlato e un'eventuale musica o rumore di sottofondo. Mi ricordo che avevo nel scorso semestre uno studente che era non udente, aveva un impianto cocleare, non so se sapete cosa sia, è praticamente un ricevitore audio che uno mette all'esterno e poi dentro, nell'orecchio interno, quindi lo operano, dentro il cranio infilano un piccolo altoparlantino che crea vibrazioni direttamente nell'orecchio interno. Per cui riesce, quando la causa della sordità sta nell'orecchio esterno oppure medio. Allora riescono a sentire i suoni però abbastanza distorti, come se fosse attraverso un telefono o qualcosa di questo genere. So che aveva dei problemi con le video lezioni perché la qualità dell'audio videoregistrata con il rumore di fondo dell'aula lui non riusciva a sentirlo. Mentre invece, io adesso sto usando il microfono anche per quello, avere una fonte audio più pulita senza avere il rumore di fondo rende più percettibile quel suono. Poi avete fatto un bel video con la voce, col parlato, con lo speaker, la musica? Ecco, vi costa niente fare una versione senza musica, di sottofondo, con l'audio pulito. Per chi ha bisogno la può disattivare. Oltre 1.1 al fatto di avere magari i sottotitoli o una trascrizione testuale. Si tratta di prendere i contenuti che già abbiamo, perché in fase di produzione le abbiamo tutte queste cose, e non buttarle via ma rimescolarle in modi diversi, in modo che siano adattabili. E non dobbiamo pensare noi a come l'utente, a quale delle varianti o delle forme del contenuto l'utente accederà. Non è un problema nostro, è un problema dell'utente, che dovrà scoprire dal mio sito come sono i contenuti e come arrivarci. Io devo mettere a disposizione i contenuti, nei modi standard specificati dai normativi, dell'HTML. E poi sarà l'utente che li usa. Se gli servono. Quelli che gli servono. Preferisce leggersi la trascrizione, farsi leggere la trascrizione dal suo screen reader, oppure ascoltare il parlato originale senza musica di sottofondo. Sono fatti suoi. Io quel contenuto ce l'ho e glielo metto. Questa è la persettibilità. L'utilizzabilità, o l'operabilità del sito, è esattamente il contrario. Cioè, facciamo l'utilizzamento al contrario. La prima cosa, di nuovo anche qui, la più importante di tutti è accessibilità della tastiera. Cioè, qualunque sito, qualunque contenuto, deve essere navigabile completamente usando solo la tastiera. Non il mouse, non il touch. Che non vuol dire, occhio, che tutti gli utenti devono sapere usare la tastiera. Ma se il sito si può usare con la tastiera, si può usare anche con un emulatore di tastiera. Gli emulatori di tastiera, abbiamo visto la volta scorsa, possono essere comandati nei modi più strani. Quindi, di nuovo, come la persettibilità aveva come canale di snodo, versatile, il testo, l'operabilità ce l'ha a tramite tastiera. Allora, vuol dire che l'HTML e il browser lo sanno, lo sanno fare, sanno navigare tra i vari link, se voi premete il tasto tab, oppure varie frecce quando siete dentro una pagina. L'importante è che nella progettazione della pagina, questa sequenza di tabbing che si può impostare sia logica, coerente, visibile e non venga impedita da altre animazioni o altre cosette che ci danno fastidio. Adeguata disponibilità di tempo, cioè fare in modo che, se la pagina ha dei contenuti che cambiano, sia possibile fermarla, o rallentarla, o tornare indietro. Perché se io ho bisogno di più tempo, perché sono lento, perché fruisco attraverso una barra Braille, quindi richiede più tempo, perché mi sono distratto e ho perso il contenuto e non posso più tornare indietro, non posso fermarlo, sto negando ai miei utenti una parte del contenuto. Allora, contenuti dinamici sono belli, le animazioni sono belle, ma devono essere controllabili dall'utente. Se l'utente vuole bloccare l'animazione lo deve poter fare in qualche modo, in qualche modo possibilmente facile da scoprire. Poi c'è un caso particolare della disponibilità di tempo, sempre sui contenuti dinamici, e ci sono alcune frequenze che possono innescare dei fenomeni convulsivi, attacchi epiletici e cose di questo genere, nelle persone che sono predisposte. Tipicamente sono cose che lampeggiano. Lampeggiare una certa frequenza, al di sotto, in certi hertz, in un certo intervallo di hertz, in un certo intervallo di frequenze, può creare dei problemi. Quindi, sia, vabbè, su uno schermo sì, ma immaginate un ambiente in cui ci sia un proiettore, un ambiente, un'installazione immersiva in cui entrate, viene proiettata una scena, eccetera, allora bisogna fare attenzione che questa scena non contenga degli elementi o dei momenti che potrebbero causare delle crisi. Se poi andate nel dettaglio, c'è tutta la specifica di quali sono le frequenze, come fare, diciamo così, a evitare queste cose. Così come, torno indietro sul distinguibile, nella norma ci sono tutte le formulette che ti dicono quando una certa combinazione di colore è un contrasto sufficiente e quando invece è un contrasto insufficiente. Cioè ti metti dentro i valori RGB e lui ti dice, attenzione, che per persone con determinate forme di aldonismo o di ipovisione, questa combinazione di colori non va bene. Cioè adesso qui non entriamo nei dettagli ma ci sono tutti nelle norme. Beh, la comprensibilità, qualcosa abbiamo già accennato prima, ha, beh la prima cosa il testo deve essere leggibile e comprensibile, cioè facile, ma vale per tutti. Cioè quando vi siete messi a leggere un testo complesso sul web? Mai. Sul web si va per frasette, per slogan, per punti, per parole chiave. Proprio perché anche la fatica di leggere sullo schermo fa sì che il contenuto si privilegia una comunicazione veloce, sintetica, chiara. la prevedibilità, questo è un concetto di usabilità in realtà. Cioè chiedetevi sempre, andate su un sito che non conoscete, posizionate il mouse su un bottone o su una voce di menu e chiedetevi quando cliccherò qua cosa comparirà? Cosa c'è qua dietro? È possibile prevedere cosa ci sarà nella pagina dopo prima di arrivarci? Se sì, se non ho difficoltà a capire cosa ci sarà dentro quella voce del menu vuol dire che il sito è stato progettato bene. I menu sono ben organizzati, le etichette dei menu sono state scelte bene e in generale l'organizzazione dell'informazione è tale da facilitare l'utente nel crearsi un modello mentale dei contenuti di quel sito e della loro organizzazione. Quindi non so dire esattamente cosa ci sarà scritto, ma so che tipo di informazione troverò da quella parte. Ad esempio se vado su un sito c'è scritto contatti mi aspetto che lì ci sia il numero di telefono, l'indirizzo di mail, l'indirizzo stradale, la mappa eccetera per arrivare per contattare o per arrivare comunque nel luogo. Perché quella ormai è la convenzione. L'usabilità è fatta molto di convenzioni, una certa cosa sta sempre nello stesso posto e viene chiamata sempre nello stesso modo. Quindi non complichiamo la vita inventandoci cose strane. Perché se invento cose strane poi l'utente non sa che cosa c'è lì dietro. Allora non stiamo facendo un'operazione di enigmistica, vediamo se l'utente indovina, stiamo facendo operazioni di comunicazione, per cui l'utente deve essere facilitato nel trovare l'informazione che stava cercando in quel momento. E poi il discorso dell'inserimento dell'informazione, cioè se l'utente deve inserire dei dati magari l'utente può avere delle difficoltà e quindi trovare delle soluzioni che permettono di evitare il più possibile gli errori. Un esempio molto semplice, anziché scrivere il comune di residenza se ci serve chiederlo, farglielo scegliere da un elenco. Così non può fare errori di digitazione perché sceglie semplicemente la voce che gli interessa dall'elenco. E se la sbaglia, dargli il modo facilmente di correggere, non che se ho sbagliato una cosa devo tornare e ricominciare da capo. Sono cose che spesso diamo per scontato perché siamo abituati a usare dei servizi, delle app, dei siti fatti bene. Ma non è scontato, nel senso che chi li ha fatti per farli bene ci ha dovuto pensare. Ha dovuto studiare tutte le varie possibilità e adesso noi diamo per scontato, infatti ce ne accorgiamo quando arrivi in un sito che non è fatto così bene, ti trovi disorientato, non capisci cosa c'è scritto, non sai come fare a correggere, non sai se hai completato l'informazione o no, se la procedura è finita o no. L'ultima linea guida era la robustezza, dicevamo, la compatibilità con tutti i programmi attuali e futuri, compresi gli eventuali ausili che si inventeranno nel futuro. E come faccio a sapere cosa ci sarà nel futuro? Non lo so, so sapere. L'unica cosa che posso fare è attenermi il più possibile agli standard, perché so che i produttori di ausili, i produttori di browser, seguiranno anche loro gli standard che sono pubblicati. Quindi se c'è una cosa che funziona solo oggi con la versione 59 di Chrome, non la uso. O se la voglio proprio usare perché mi impallina avere il bordino seghettato, perché magari quella versione funziona, usiamolo, ma non veicoliamo dell'informazione attraverso quell'effetto, quell'elemento. Facciamo in modo che sia opzionale, un di più, su cui il sito non si possa fidare, perché poi chi non usa Chrome oggi o chi userà la versione futura, in cui le cose comporteranno diversamente, non avrà più quel pezzo di informazione. Quindi non fidiamoci troppo dei dettagli di come funziona una certa cosa. La tecnologia cambia, i contenuti sono più importanti del mezzo dello strumento e della tecnologia con cui siamo veicolati. Quindi rendiamo questi contenuti più robusti, più facili ad adattarsi. Vabbè, solo un cenno per dire che la legge italiana, quindi la legge stanca del 2004, di cui ho accennato prima qualcosa, fa oggi riferimento con un aggiornamento recente direttamente a queste linee guida del WCAG 2.0. Quindi queste linee guida, pur essendo fatte da un... Vedete qua, sono allegato alla legge che riprende parola per parola i 12 requisiti che abbiamo citato. Quindi la legge italiana dice dovete applicare le WCAG 2.0, punto. Poi l'ha fatto con un percorso legislativo complicato, ma alla fine fa riferimento esplicito alle WCAG 2.0. Quindi dà una norma di legge, ma poi dice per sapere come fare vai a vedere la WCAG. Quindi questo diventa il punto di riferimento di chi produce contenuti oggi. Ecco, una volta che abbiamo fatto un sito, come facciamo però a vedere se... Immaginiamo di essersi studiati tutte queste WCAG, abbiamo progettato un sito, abbiamo creato i contenuti, testi alternativi, video, sottotitoli, eccetera, eccetera, abbiamo creato il sito, funziona. È accessibile? Un non vedente lo sa usare? E che ne so io? Perché io non sono capace di usare un sito come lo userebbe un non vedente. Posso provare per gioco, ma non avrò di sicuro né la destrezza né la familiarità con gli strumenti. E usarlo senza mani? E allora c'è il modo, esistono degli strumenti per fare verifica di accessibilità con degli software o dei servizi online che ci aiutano a farlo. Qui ce ne sono alcuni, ci sono i link, di solito sono servizi che, vi lascio poi sulle slide, potete guardare i link che ho riportato anche qua, nei quali potete inserire l'indirizzo di un sito e lui lo analizza e vi fa vedere quali sono gli eventuali problemi di accessibilità. Questo è un altro che si chiama Wave, questo è un altro che si chiama Cinzia, questo si chiama WaveExact. Hanno interfacce un po' diverse, ma alla fine fanno quasi tutto il riferimento alle WCAG più alcune norme aggiuntive statunitensi e vi danno le violazioni, gli errori, i warning, i problemi, eccetera. C'è neanche uno di questi, che è il famoso Wave, che ho citato qua, tanto per capire di cosa stiamo parlando. Ha anche la versione, ad esempio come estensione, in questo caso sono su Firefox, quindi l'ho installato qua, mi dà un bottoncino, per cui quando vado su un sito posso schiacciare su questa iconcina Wave e mi fa la valutazione dell'accessibilità di quel sito. Prendiamone uno che mi dite voi, ad esempio un sito di quei beni su cui stanno lavorando. Io cerco Palazzo Madama su Google e scelgo il primo risultato, perché l'utente medio di internet fa così. Allora questo è il sito, vediamo se rispetta le norme tecniche. Io clicco su questa W e lui mi dice che questa pagina ha 33 errori, 29 alert, warning essenzialmente, 10 features, quindi 10 soluzioni che migliorano l'accessibilità e poi ci sono altri elementi che sono... E 33 errori di contrasto, contrasto colore. Mi ha popolato la pagina di iconcine, sono queste qua, questa rossa, questa rossa, questa verde. Verde vuol dire va bene, vedete qua, questo verde alte vuol dire che dietro questa immagine c'era il testo alternativo. E questo alternativo si chiama home, quindi anche un non vedente sa che cliccando lì va nella home, anche se non vede il logo di Palazzo Madama. Questo qua invece è un errore, perché se vado qua, dunque ci clicco sopra e dice link contain no text. Quindi questa lente, questa lente qua, che è la ricerca, è un link ovviamente, se ci clicco sopra fa qualcosa, tipicamente apre la finestra di ricerca, va bene, ma dietro questo link non ha nessun testo associato, il link comprende solamente l'immagine della lente. E allora chi non vede l'immagine della lente non sa cliccando lì sopra che cosa fa. Un sintetizzatore vocale, un sintetizzatore vocale, leggendo questa pagina direbbe link home, link immagine, link eccetera eccetera. Quindi dice c'è un link e ti legge il testo corrispondente a quel link. In questo caso non saprebbe cosa leggerti, quindi manca il testo qui e così via. Questo giallo qua, cosa vuol dire? Attenzione che ci sono dei link vicini che vanno allo stesso indirizzo. È giusto o non è giusto? Link adiacenti vanno allo stesso indirizzo, quindi non si capisce l'utente, se un utente sentisse questa pagina letta, leggerebbe link con un testo e va a una pagina. Link con un testo diverso e va alla stessa pagina. Questo crea confusione, perché lui non si aspetta che due link diversi vada, perché magari non so come sia fatto, ma magari la parola legge e la parola tutto sono tecnicamente due link diversi. Oppure leggi tutto e il bottone viola sotto sono due elementi diversi, entrambi hanno un link, quindi va un attimo riprogettata quella parte. Questo verde vuol dire che va bene, perché c'è un'etichetta su cui poter saltare direttamente, questo qua era quello di prima, questo cosa vuol dire? Dice un'immagine senza testo alternativo. E queste sono tutte immagini senza testo alternativo. Cioè queste immagini, poverette, loro ce l'hanno il titolo, ma non c'è nulla che dica che questo titolo è relativo a questa immagine, o meglio che questa immagine può essere descritta anche da questo titolo. Ci sono due modi, o aggiungi al testo alternativo o mettere un'etichetta che si chiama label, per dire questa è un'etichetta di quell'altro elemento in HTML, no? Poi sono tutte le tecniche, poi tutti i bottoni social sono tutti i bottoni senza il testo, un link che non contiene testo. Vedete non ci vuole molto, basta aggiungere un po' di testo qua, un po' di testo là e tutti questi errori scompaiono. Allora qui io posso navigare la pagina, vedere i warning che mi dà, posso andare su questo e mi fa l'elenco. Ci sono nove errori di tipo manca il testo alternativo, cinque manca un'etichetta, uno non è specitato nell'HTML in quale lingua è scritto il documento, è italiano, basta mettere sei caratteri, lang uguale it, sono sette caratteri scusate, nove con le virgolette, nella prima riga dell'HTML, nella seconda riga dell'HTML, e dice questa pagina è scritta in italiano, così evitate di dover navigare quella pagina e vi legga il contenuto italiano con l'accento inglese, perché il sentitatore vocale non lo sa, e magari lavora sul default, e così via. Quindi sono, in questo caso è andato abbastanza bene, se entro in un articolo, leggi tutto, attivo la valutazione, anche qua, 20 errori per una paginetta, dove sono? Sono tutti qua, alla fine, quasi tutti nel footer. Quindi i contenuti sono fatti abbastanza bene, il footer un po' meno. Quindi, chi sviluppa, ha strumenti di questo genere, che gli permettono, anche non facendo una valutazione, una valutazione, diciamo così, con utenti disabili, che sarebbe in realtà l'unica vera valutazione, prendiamo un utente che abbia difficoltà e facciamogli usare il sito, e facciamoci dire dove trova delle difficoltà. Prima di fare questo, abbiamo tutta una serie di valutazioni tecniche, automatiche, e quando hanno sviluppato le WCAG 2.0, anche rispetto alle 1.0, hanno fatto particolare attenzione proprio a rendere più facilmente automatizzabili queste verifiche. Adesso in questo caso c'erano anche dei problemi di contrasto, vero? Erano citati da qualche parte. Errori di contrasto, dove sono? Ah, sono qua. Vabbè, scusate, li ho persi, volevo vedere un attimo qual era, spero non li trovo più qua. Ah, eccolo qua, scusate, c'è la... Eccolo qua. Tutti gli errori di contrasto sono indicati qua. Contrasto troppo basso tra il foreground e il background. Quindi questo testo qua, questo grigio, cioè questo beige, non fatemi dire il nome dei colori perché non li so, però questo colore qua, rispetto allo sfondo, non ha un contrasto sufficiente. Quindi mi fa vedere qual è il colore, qual è il colore dello sfondo, qual è il rapporto di contrasto tra uno e l'altro, e quindi posso... E tra l'altro dipende anche dalla dimensione del carattere, quindi vedete che lo stesso colore, se una dimensione del carattere più grande gli piace, se una dimensione del carattere più piccolo no. Ovviamente perché la percettibilità dipende da entrambi i fattori, il contrasto e la dimensione. Ok, quindi questo è un pochino l'attenzione a cui dobbiamo fare in termini di comunicazione e anche in termini poi di soluzioni tecniche sui siti accessibili. Quindi se nel vostro progetto dovete valutare magari la comunicazione di un bene, oppure progettare la vostra, dicevo, sia che sia il sito, che sia l'installazione in situ, l'interattiva, il totem, la stanza immersiva, eccetera, i principi sono sempre questi. Poi trovate che le WCAG ovviamente si dettagliano sull'HTML, ma i principi generali sono gli stessi, i ragionamenti che dobbiamo fare sono sempre gli stessi. Ok, chiuderei solo con, ho preparato quattro avvisi veloci, visto che poi non ci vediamo più o non obbligatoriamente. Allora, se nel vostro progetto che state sviluppando avete bisogno di confrontarvi, di un aiuto, di un suggerimento, di una strigliata o quello che volete, su qualcuno di questi temi qua mi contattate tranquillamente, ci troviamo da me, ci troviamo qua, ci troviamo sul tram, come abbiamo fatto con dieci di voi prima, e ne possiamo parlare, possiamo lavorare specificatamente sul vostro progetto. Quindi sull'accessibilità, usili, interfacce web, applicazione, accessibilità, c'è tutta anche una parte che qua non abbiamo avuto tempo di trattare, sulla domotica, sull'ambiente intelligente, sull'ambiente interattivi, che è quello che in realtà io faccio come argomento di ricerca, che se vi interessa, possiamo, posso chiaramente, ho la disponibilità ad aiutarvi nel vostro lavoro. Quindi mi mandate una mail e poi ci mettiamo, oppure se non attraverso gli organizzatori del corso, ci sentiamo e ci mettiamo d'accordo. Quindi questa è la prima cosa che voglio lasciarvi come contatto, come libertà di contattarvi. L'altra cosa sul materiale, io ho sia la lezione scorsa che questa, le ho registrate, e se le volete andare a vedere, sono su YouTube, quindi anche chi non ha potuto seguire, oppure per qualunque, diciamo, di interesse, ci sono questa piccola playlist di due video che trovate a questo indirizzo. E tanto c'è nelle slide. Vi rubo un minuto, cioè due spot di 30 secondi l'uno, perché sono argomenti imminenti che magari potrebbero interessare a qualcuno. La settimana prossima ci sarà un convegno qua a Torino, al CERMIG, sulle tecnologie assistive. Si intitola La comunicazione immunitativa alternativa nell'età adulta, realtà europee, nuovi approcci riabilitativi, eccetera. È essenzialmente un convegno fatto principalmente da logopedisti, quindi esperti della comunicazione, dove però c'è una parte interessante che sono delle esperienze europee. Quindi vengono delle persone, uno dalla Remarca, uno dall'Inghilterra, dal Regno Unito, un'altra persona dalla Svezia, a raccontare loro, nelle loro realtà, come fanno. Ad esempio, questo che viene dall'Inghilterra, si chiama Mike Donegan, è fantastico, perché lui adatta i videogiochi, la Playstation, per capire, alle persone con le disabilità più strane. Quindi fanno dei lavori incredibili, vanno a casa delle persone, gli smontano il controller, fanno degli adattamenti. Tra l'altro, se interessa, poi ditemelo, vi mando il link ai suoi video, dove fa vedere questi lavori. Quindi, se a qualcuno interessasse questo tema della comunicazione, più in generale, lì dentro ci sarà anche una sala in cui i produttori di ausili fanno vedere quello che lo chiamano una sensory room, quindi un ambit, una stanza in cui ci sono varie soluzioni di adattamento sensoriale, eccetera. È un convegno purtroppo a pagamento, so che c'è uno sconto per gli studenti, se a qualcuno interessa, me lo dice, oppure vedi questi link e va a vedere. Settimana prossima. L'altra cosa, che è un altro argomento, che esula, da quello che facciamo in questo corso, ma se a qualcuno può interessare, io sto iniziando a lavorare su un tema di gioco accessibile. Quindi l'accessibilità sui giocattoli, sui videogiochi, in contesto, sì, scolastico, ma anche, soprattutto, familiare. Giocare per divertirsi, insomma, non necessariamente. Adesso si parla tanto di serious game, giochi educativi, eccetera, eccetera, va bene, ma io voglio giochi che divertano, quindi rendere i bambini o i ragazzi con disabilità, in grado di giocare agli stessi giochi dei loro amici e dei loro compagni. Allora, su questo stiamo organizzandoci in dipartimento, facendo una convenzione con padienti che si occupano di questo tema. Se qualcuno è interessato, mi contatta e vediamo se possiamo fare qualcosa insieme. Questa era la fine dello spot. abbiamo ancora, se volete, qualche minuto, 1, 2, 3, 5, se avete domande, se avete dubbi. io ho un po' di questione, però, sulla comitina generale. Abbiamo adesso, finora associato questi, questi talchi di testo, a contenuti, non sono testuali, come un portale lo ha fatto da elettoromani, ma in machine learning si sta anche in fondo di questo tema. Quindi tu vuoi creare contesto alternativo aggiungendolo alle immagini in modo automatico, quindi algoritmi di machine learning che siano in grado di generare. ci sono delle associazioni di immagini e parole che sono state fatte già con un attenzimento per altri. Allora, sì, nel senso che, cioè, ad esempio, se tu fai una ricerca di Google Immagini, scrivi Gatto e ti fa vedere le foto di Gatto, lui ha capito che a quell'immagine era associabile quella parola. Lo fa in tanti modi diversi, spesso lo fa se c'è il testo alternativo, andando a leggere il testo che ci interessa intorno, ma sempre di più stanno aumentando gli algoritmi che sono in grado di capire cosa c'è in un'immagine e capire cosa c'è in un testo. Allora, ti faccio una domanda. Tu navigheresti, se tu vuoi fare un sito in cinque lingue, useresti Google Translate? No, ecco. Allora, per le immagini siamo ancora più indietro. Nel senso che se tu vuoi mettere il contenuto, la reperibilità del tuo contenuto nelle mani di un algoritmo che ci azzecca il 90% dei casi, ma anche in quei 10% dei casi magari fa dei disastri incredibili. Eh, non so se lo farei. verrebbe la pena investire in modo di questi algoritmi che siano ottimizzati per poter risparmiare il lavoro umano. Come sempre si può si può combinare una prima parte, una prima scrematura automatica, algoritmica con poi una revisione. Una revisione ci deve essere comunque, sempre. Cioè, magari, sì, facendo esempio la traduzione, Google Translate lo puoi usare per dare una prima scremata al testo, poi però te lo rileggi te lo rivedi. in realtà è meglio di no perché secondo me ci metti meno tempo a riscriverlo, a tradurlo. Al momento, sai, è il nostro contenuto. Ci abbiamo lavorato, lo abbiamo creato e poi dopo l'ultimo pezzettino ti fidi di qualche cosa di cui non hai il pieno controllo. Ecco, non... Ma nel caso di sistemi gay con la criticità del silo, sì, potrebbe anche essere un suggerimento di che cosa, come riempire quel modo per il testo del testo, magari a Roma la confermo a meno del momento di YouTube adesso, se non smetto manualmente un suggerito di ventimaneo da testo è più come Go per il testo e quindi non lo fai in casa del video c'è comunque un vero che tra l'altro in quest'ultimo anno è migliorato enormemente. Io mi ricordo il video che facevo l'anno scorso anche in italiano e rispetto a quelli di quest'anno ci azzecca molto di più. Poi, se vuoi farti due risate vai a vederli, nel senso che poi intanto spesso diciamo se una cosa è buona al 90% vuol dire che in ogni riga di sottotitoli c'è un errore. Ogni riga ha dieci parole. Una riga e una riga e mezza. Da fastidio, è la lunga. Poi, meglio che niente, viene gratis, ottimo, se non ho alternative. se però sto producendo un contenuto capisci, mi costa meno scrivere tre parole di testo che non magari il grafico che mi ha fatto l'immagine e me l'ha curata nei colori me l'ha modificata, quindi come tempo di lavoro. Quindi, la creazione automatica dei contenuti la vedrei come ultima spiaggia. è possibile ma un po' come come si chiama il keynote del Mac, quando scrivi delle slide poi lui ti propone l'immagine evocativa da mettere come sfondo, eccetera. A volte non c'entra niente. Se la mettessi in automatico, cioè tu hai sempre bisogno di, va bene il suggerimento, l'algoritmo che gli dia suggerimento ma poi c'è bisogno di qualcuno che dica sì questa va bene, no questa non va bene perché non è nello stile, non è nel gergo, non è. Ok. Vi ringrazio. Buona serata.